Apprezziamo la buona volontà e l'impegno della vicepresidente Princi che ha destinato 17 milioni ai tirocini legati a garanzia giovani. Dobbiamo però rilevare, ancora una volta, che è la misura in sé ad aver ampiamente dimostrato nel corso degli anni di non funzionare perché è legata a interventi limitati a pochi mesi e incapace di mettere in azione stabilità a medio e lungo termine nelle aziende private. Forse sarebbe il caso, per come da noi già proposto in più occasioni, di ripensare tutto il comparto delle politiche del lavoro in Calabria e quanto dichiarano i consiglieri regionali del PD Mimo Bevacqua, Ernesto Alecci, Franco Iacucci, Nicola Irto e Raffaele Mammoliti. Riteniamo molto interessante e proseguono l'esempio offerto dalla campagna in questi ultimi anni, aprendo un'opportuna interlocuzione col governo nazionale in Unione Europea. Il governatore De Luca è riuscito, fra le altre cose, a destinare 100 milioni per il ringiovanimento della pubblica amministrazione campana, provvedendo a bandire appositi concorsi, nonché ad avviare una collaborazione serrata con il Ministero della Funzione Pubblica per la gestione del Fondo Sociale Europeo e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Tutte azioni che non sono affatte precluse dalla Calabria e dalle quali, anzi, la nostra regione avrebbe urgente necessità. A questo proposito ci piacerebbe conoscere le ragioni per cui la Regione Calabria, dopo messi dalla pubblicazione del bando attraverso il Formez, non ha ancora svolto le procedure di selezione relative al concorso per 623 unità relative al Piano Straordinario Nazionale per il Potenziamento dei Centri per l'Impiego. Si tratta di un tassello essenziale, se si vuole sul serio, cambiare passo. Ci auguriamo, conclude la nota, che si voglia davvero avviare una stagione nuova che mette da parte misure tampone e si rivolga verso politiche del lavoro realmente attive, utili e in grado di colmare le carenze esistenti, garantendo occupazione stabile sia nel settore pubblico sia in quello privato. Noi, come gruppo PD, siamo come sempre disponibili a discutere e a dare il nostro sostegno a tutto quanto vada in questa direzione.